Sono un pro player Pokémon e oggi valuterò Exeggutor, menzione d'onore per Hypno, Kingler ed Electrode che a mio avviso non meritano ulteriore approfondimento. Tipologia Erba Psico, il numero 103 del Pokédex nazionale, esso presenta due abilità, Clorofilla e Cogli Bacche. Pur non presentando alcuna forma Gigamax e nemmeno forma Mega Evoluta, ritiene tuttavia una forma alternativa nella regione di Alola di tipologia Erba Drago. Dando uno sguardo alle sue statistiche, presenta 530 punti base distribuiti in modo per lo più omogeneo, strizzando però in particolare l'occhio alla sua statistica di attacco speciale a discapito di una bassa velocità. E' quindi un Pokémon che non incassa egregiamente i colpi avversari, ma che comunque può rispondere con un ottimo 125 base in attacco speciale. Ed inoltre presenta una debolezza 4 per di super efficacia dai tipi Coleottero e numerose debolezze 2 per di super efficacia. Vi consiglio di utilizzare questo Pokémon sotto sole con l'abilità Clorofilla in modo tale da raddoppiare la sua velocità, oppure nella forma di Alola con l'abilità Indagine oppure Cogli Bacche. Infine presenta un Moopool costituito per lo più da buone mostre stabbate e di Sappor. La mia valutazione finale per questo Pokémon è di 6,5 punti su 10 totali.